Ciao, per la ricetta di oggi ci serviranno delle uova sode, della senape, yogurt greco bianco, un po' di sale, mezzo lime, olio extravergine di oliva, il mio è quello di 3M, e infine del comino. Iniziamo a mettere in una ciotolina il sale, il lime, il comino, lo yogurt e la senape e mescoliamo bene. Tagliamo a tocchettini le uova, le mettiamo in un'altra ciotolina e andiamo a condirle con la salsa. A abbondare è meglio che defiggere, ricordiamocelo. Io ho deciso poi di unire un pezzettino di scalogno triturato per dare ancora con lo sprint in più. Mescoliamo tutto e la nostra insalata di uova è pronta, però aspettate, decidiamo anche come servirla. Io ho fatto questo flatbread, potete usare anche delle piadine, vanno benissimo anche quelle. Ho messo al centro un cetriolo tagliato, la mia insalata di uova ho arrotolato tutto e me lo sono gussato. Taste test per vedere come è uscito, mi sono presa un gigaboccone, è vero, avete ragione. Ma è veramente buonissimo e ora vado a finirlo. Ciao! Ciao!